di nuovo ciao a tutti ragazzi nuova corsa nuovo giro questo giro siamo sempre in bormida però abbiamo cambiato postazione siamo nel bormida si la bollata la vedo siamo nel bormida di millesimo quasi nei pressi del centro abitato di corte miglia abbiamo già catturato nonostante siamo in ritardo il tempo e quello che abbiamo già catturato un bel cave d'anello e adesso a canna fissa abbiamo una bella sorpresa perché sinceramente non ce l'aspettavamo di trovare nel bormida di spigno una propria idea controlliamo magari ho visto male perché sono un po ansenso invece no dove scappi eh no eh no è proprio lei è proprio lei ma pensa a te persino le trotti ci sono qua dentro stop